della settima edizione del carnevale di tervese agli amministratori agli organizzatori e a tutti coloro che avvalutivano sono ricordi in questo appuntamento che tutta la città di ritardo attende carnevale di tervese due di appuntamento il 10 febbraio il 13 febbraio io saluto e ringrazio per essere con noi la sindaca della contini l'assessore alla cultura della rivoluzione affonso Antoniozzi l'organizzatore con che direttore artistico del carnevale di tervese abbiamo Daniela Berrini e Antonella Ferretti Poi abbiamo con noi la consigliere ad un'area maestà della Croci Matteo del Mecchi e abbiamo anche la sua maestà della Croci ben trovata ben trovata bene io mi fermo e lascio la parola a Silvio Proci giusto veramente per un brevissimo saluto benvenuto è sempre bellissimo vedervi in questa sala che di norma è abbastanza grigio di tanto ma non bisogna vedere tutti questi soffizi ragazzi è un evento che porta gioia a fare di vivere la città ed è come anche l'anno scorso insomma con tanta gioia che la Costituzione sostiene e supporta questo appuntamento è un appuntamento che ci fa vivere la città ci fa vivere il centro storico in maniera comunitaria e con la specializzatezza di cui abbiamo sempre più bisogno quindi ogni anno tra l'altro un appuntamento che vediamo cresce che vediamo sui gruppi, il servizio che si scrive, che si snossa, che si chiede e quest'anno tra l'altro insomma grazie a consigliere Croci poi voglio dire a lei anche un occhio attento insomma al tema di inclusione che teniamo sempre molto importante e di volerlo portare ogni volta alla protezione delle grandi manifestazioni e delle manifestazioni importanti credo che sia poveroso dalla parte mia di graziare Alfonso, ovviamente la TRIPS per usare gli uffici dell'assessorato alla cultura e alla produzione che supportano dal punto di vista amministrativo insomma tutta la parte burocratica dell'attività e poi ovviamente l'anima e le anime della festa e quindi insomma Lucio e tutto il gruppo dei collaboratori che hanno dato veramente corpo e brio a questo appuntamento che per tanti anni non è andato in città e quindi insomma da qualche anno è tornato e che torna sempre con sempre maggiore esegno quindi grazie a tutti questo è il potere di quello che possono fare insomma le persone, i cittadini, la comunità che hanno voglia di costruire qualcosa di bello per la città e poi in questa occasione come è stato un piacere di siedere Alfonso grazie a tutti grazie a tutti grazie Cristina, molto meglio a tutti benvenuti, benvenute dunque intanto è bello dire che a questo punto caro Lucio questa la chiamiamo una traduzione no, possiamo cominciare a chiamarla questo per dire come ho detto tante volte che a volte in traduzione non le dedichiamo ma siamo bravi anche se le creiamo no, in questo caso il fatto di averla creata oramai che è un appuntamento fisso è un appuntamento che la città si aspetta è un appuntamento che ogni anno no, vedo, si risponde sempre lo più entusiasmo lo vedo anche nelle conferenze stampe che sono sempre più piene di gente il carnevale è un momento straordinario come dicevo andato l'anno scorso ma aggiungo, metto sopra noi facciamo il compendio imprennale dei ragionamenti culturali sul carnevale è il momento in cui è veramente lecito attingere a quel pizzico inferiore di vita è il momento in cui noi che volendo volenti, donnoenti nella vita di tutti i giorni ci dobbiamo prendere un pochino più serio perché non sia mai noi veniamo presi come persone che si versano possiamo abbandonarci e diventare un'altra persona ma diventare un'altra persona significa dialogare con le persone che sono diverse da noi dialogarle, dialogarci al punto tale che ci restiamo come quelle persone diventiamo un'altra persona poi come vedo io noi diventiamo un'altra persona come ci svegliamo la mattina perché a seconda di quale abito decidiamo di mettere per quella giornata in quel momento siamo già travestiti da qualcos'altro perché proiettiamo l'immagine che vogliamo dare quindi voglio dire questo il carnevale, a parte il divertimento a parte il fatto di poter attingere alla follia è il più grande da sempre esperimento di inclusione sociale che in modo si sia mai inventato in mezzo al carnevale tu non distingui la persona sempre non il burlone, non il foglio, l'assaggio è il più grande esperimento di inclusione sociale e proprio per questo noi abbiamo con la consigliera Croce che adesso parlerà fatto un saltino di più abbiamo parlato ancora di più di inclusione sociale che non significa soltanto diventare qualcun altro ma significa dare la possibilità a tutti di partecipare in maniera attiva e effettiva al carnevale voglio dire, chiudo velocemente che tutto questo e lo dico per gli intervisti che verranno al carnevale lo dico per ogni forma di spettacolo e per ogni forma di evento oltre ad apprezzare quello che vedrete apprezzate sempre il lavoro che c'è dietro perché tutto quello che si infiamma e scompare nel corso delle 3, 4, 5 ore di carnevale arriva da mesi, mesi e mesi di preparazione, di negoziazione di lavoro del budget di cucitura dei costumi di immaginazione del carro cioè quello che arriva è la fine di un lungo periodo di collaborazione che è anche quello che è sempre eseguito e sta sempre vicino a noi che sta sempre tanto carina nei nostri confronti e purtroppo è quello da mancare questi giorni alla signora Susana De Marchi bene, detto questo questo carnevale quest'anno sarà strepitoso perché è strepitoso tra virgolette perché è fatto dalla gente è fatto da tutti voi perché noi consideriamo il carnevale una cosa dei viterbesi non di chi lo organizza né del comune ma dei viterbesi è doveroso da parte nostra sottolineare come quest'anno l'amministrazione ci ha levato tante castagne dal fuoco perché io mi ricordo i primi carnevali dovevo iniziare a settembre ad organizzarli e mi ritrovavo l'ultimo giorno che ancora ci stavano permessi roba da fare e diventavo matto mi sbattevo da un ufficio a un altro addirittura ho subito l'umicazione di alcuni funzionali che mi dicevano ma che è il carnevale che è il ritermo ma stiamo a parlare di un altro posto insomma diciamo di video chiave quindi manco noi erano al corretto invece adesso possiamo notare con piacere che si è messa in odo una macchina organizzativa dell'amministrazione pubblica e quindi a noi ci ha fatto molto piacere perché ha fatto sì che abbiamo potuto dedicarci al vero aspetto organizzativo degli atti particolari insomma allora quest'anno il carnevale avrà una piccola novità come sapete tutti lì al centro della piazza ci sta la tomba della bella Cagliana a voi giornalisti abbiamo messo il racconto il racconto della storia di Frisigello che vi presento che sono io che era un giullare di Vervese dell'epoca che aveva il compito di derivere quelli ricchi e loro non si accorgevano che venivano derisi mentre lui faceva pensavano che lui faceva il buffone invece in realtà li stava venivendo ci sarà una piccola fermata qui in piazza del plebiscito dove Frisigello io e Frisigello il trampoliere posseremo praticamente una piccola rosa ai piedi del sartofalo della bella Cagliana che poi voi dovete capire che Giulietta e Romeo su una storia completamente inventata ci hanno fatto la loro fortuna a Verona ecco e noi abbiamo una storia che è vera insomma che è una storia e non siamo riusciti a sfruttare la dovere io credo che quest'anno sia l'anno che dobbiamo cominciare a far conoscere questa storia che mi auguro che con l'aiuto di voi giornalisti che siete sempre preziosi e per fortuna ci vediamo una volta all'anno non di più no sono preziosi perché ci vediamo una volta all'anno quindi per me siete un po' fondamentali non vedrebbe quasi mai ecco dice Dezzana che è tutto un programma vero adesso io so il folletto che posso dire che mi vado oggi è tutto ammesso quindi te la becchi su Gaetano non ti dico niente non mi guarda impavorito assolutamente tu c'ha web lo sta che ecco e lì lo sanno la simpatia che ho con Galeotti che se se volevo dare la capocciata se la dà no se volevo bene è reciproca la cosa sì sì lo sappiamo assolutamente e poi adesso scherzi a parte Carlevale salutami il direttore assolutamente non ci sono bene poi volevo ringraziare oltre a tutti i capi gruppo che sono tanti quest'anno oltre alla novità di Frisigello che poserà diciamo il fiore alla bella Cagliana si è aggiunto anche a noi un carro perché di termine vive sull'agricoltura un carro di agricoltori che in questi giorni i poverini stanno veramente manifestando ci sono anch'io mezzo con i trattori quindi da contadino quale so e me ne vanto stanno manifestando per voi anche soprattutto per voi però finalmente vogliono strammatizzare e vogliono unirsi insieme a noi con i loro bellissimi costumi antichi e far vedere insomma che i contadini ci sono sempre quindi grazie per essere riuniti e sarete per i prossimi anni sempre graditi ospiti abbiamo consegnato questa mappa dove tutti voi giornalisti potete capire dove saranno ubicati i carri stiamo pensando che superiamo i mille figuranti quindi diciamo che la cosa è abbastanza importante ci sarà un servizio d'ordine molto importante è un'organizzazione che seguirà tutto il palco a piazza 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 quest'anno avrà un vocalist che vi presento che è Matteo Bernanti qui al mio fianco che praticamente intratterrà le persone sul palco sentite abbiamo anche i bambini che stanno perdendo le scatole poi devo ringraziare tantissimo i miei due collaboratori Daniela Berlini e Antonella Ferretti che stanno al nostro fianco che se essere di loro è praticamente finito e qui ho una mano enorme altre cose che dovremmo dire ci saranno tanti bambini degli asili delle scuole materne della San Pietro la Merlini Merlini poco per te Daniela Berlini c'è il Merlini ecco lì proprio dopo dice così poi c'ho il gobo c'ho il gobo c'ho il gobo ecco prego ci sarà un carnerale veramente molto intuitivo perché cerchiamo di durare su piccoli piccoli bambini di presso e che porterà davanti poi negli anni di nostro carnerale quindi il fatto che tanti bambini tante scuole saranno contrecite il nostro carnerale è secondo me un bellissimo segno e inoltre quest'anno ci sarà un gruppo poi cerchiamo di avere di essere inclusivi anche con le altre comunità ci sarà anche un gruppo di singalesi che porteranno loro costumi loro d'arte loro bali lungo il carnerale e non so se oggi sarà riuscito a venire uno in una presentata ma credo che l'insegnante aveva delle scuole da andare avanti però anche questo speriamo che nei prossimi anni si possono aggiungere ai nostri gruppi di carnerale anche altre comunità perché dentro la città ci sono tante comunità di diverse nazionalità speriamo che questo se non vuole siete potrete portare nei prossimi anni anche altre buone buone